Buongiorno amici lontani e vicini, siamo con il sindaco del comune di Lipari, Marco Giorgianni. Sindaco, non possiamo non parlare dell'ultima tornata elettorale che c'è stata alle olie, che indubbiamente nel bene e nel male segna la sua carriera politica. Però al di là di questa considerazione dobbiamo pure trattare un argomento che ha turbato non poco la comunità euliana. L'elicottero del 118 non arriva e un cittadino euliano è morto. La comunità si chiede, ma in queste isole non viene più garantito il diritto alla salute? Partiamo dalla prima domanda, che mi pare possa liquidare molto velocemente. Segna la mia carriera fino a un certo punto, nel senso che io penso di aver spiegato il senso della mia candidatura, che non era una candidatura soltanto di Marco Giorgianni, ma era una proposta politica rispetto alla capacità di esprimere in un territorio una candidatura. Da questo punto di vista, intanto nel contesto delle elezioni così come sono andato, che hanno visto in Sicilia un esploit di una forza politica, quello dei Cinque Stelle, che ha fortemente condizionato, devo dire in tutta Italia, ma in modo particolare in Sicilia, dimostrando che la maggior parte dell'elettorato non era attenta, non condivideva qualsiasi altra forma e qualsiasi altra proposta, se non quello di un movimento che dal mio punto di vista, questa è una mia opinione personale, si caratterizzava per una questione di discontinuità, se non di protesta e quindi qualsiasi altra proposta ha avuto una rilevanza e un'attenzione limitata. dal mio punto di vista personale, in questo contesto e nella valanga travolgente, perché le cose vanno dette come sono, dei Cinque Stelle, io da un punto di vista mio personale potrei pure dirmi soddisfatto, nel senso che io avevo chiarito i termini della proposta e anche i limiti, dal primo momento credo di essere stato l'unico, forse in Italia, l'organizzazione compresa che nella propria provincia abbia preso almeno l'1%, che era l'obiettivo, quindi come risposta personale sono più che soddisfatto, anche con un voto sostanzialmente diverso, non soltanto a Lipari, perché se era a Lipari avrebbe avuto un senso legato al fatto soltanto che sono sindaco, ma in tutta la provincia, con un voto che al Senato sulla mia candidatura è stato il doppio del risultato registrato dalla stessa lista alla Camera, quindi diciamo l'attenzione c'è stata, con numeri certamente bassi, ma l'attenzione c'è stata indipendentemente dal momento storico. Era un tentativo e un'esperienza che secondo me andava fatta nei limiti di come poi è andata e anche delle previsioni che c'erano, al di là del fatto che da un punto di vista personale è stata una bellissima esperienza che mi ha messo in contatto con realtà diverse, tentando di fare quello che volevo fare, cioè un collegamento del territorio con la nostra provincia, in modo particolare con la fascia terrenica, che secondo me è un'opportunità che noi dobbiamo perseguire. A proposito della situazione sanità che ora approfondiremo, ma quanto ha pesato la scritta Lorenzin? Sicuramente tanto, ma io infatti l'ho chiarito anche negli incontri pubblici, dicendo guardate, la mia candidatura in quella lista aveva tanti limiti, ma io non è che lo sto dicendo col senno di dopo, l'ho detto all'inizio con l'incertezza, quasi la certezza, perché la gente non è stupida, lo sa, lo capisce che fare un 3% sarebbe stata una cosa difficilissima, quindi molti hanno interpretato il voto come un voto inutile. Il fatto della Lorenzin, che a torto ragione, non vorrei ripetere i motivi della campagna elettorale, che a torto ragione veniva collegata col ragionamento della sanità. E allora dico, se nonostante tutto questo, quindi con la gente che vuole votare i 5 stelle, con il limite che ho appena detto, raggiunge il risultato che ho raggiunto, devo dire, ma non lo dico proprio perché io sono abituato a dire le cose come stanno, anche quando antipatica, quando si perde si perde, quando si vince si vince, non bisogna mai dire le cose in modo da, diciamo, rabbonire la pillola, insomma non è questo il motivo. Io credo che è una candidatura con tanti limiti, però molti hanno interpretato il senso con il quale era stata fatta e quello che mi ha fatto piacere è stato che questo è stato interpretato probabilmente anche in maggiore misura, più fuori che nel nostro territorio. Ecco, approfondiamo la questione sanità, siamo arrivati al punto che qui si muore perché l'elicottero del 118 non è potuto arrivare per il forte vento. Allora, senza anche in questo caso voler essere per forza uno tranquillizzante, diciamo, ma questo noi ancora non lo sappiamo. Noi sappiamo che è una cosa gravissima, noi non lo sappiamo i motivi della morte, devo dire che l'amministrazione da questo punto di vista oltre a esprimere le condoglianze alla famiglia, cosa che ho fatto anche formalmente durante il Consiglio Comunale per il dolore che questo ha provocato e anche la preoccupazione, l'amministrazione dal primo momento immediatamente, prima informalmente, ma poi abbiamo ritenuto di farlo anche formalmente, ha chiesto alla direzione sanitaria una risposta, una relazione puntuale rispetto a quali sono i motivi del decesso di questa persona che se sia stata stabilizzata, come qual è stato l'intervento prodotto dall'ospedale e soprattutto con quanto e se abbia inciso in questo decesso il ritardo dell'atterraggio dell'elicottero. Quindi da questo punto di vista ci siamo mosti immediatamente perché non abbiamo intenzione assolutamente di far passare inosservato questa cosa. Non sappiamo se c'è una relazione diretta, ma quindi io vorrei distinguere, come ho fatto in Consiglio Comunale, nonostante dispiacere per questa morte, comunque riteniamo il fatto del mancato atterraggio dell'elicottero, seppur una cosa che può avvenire, come ne avvengono tante, non ci consola questo, ma non soltanto all'Ipari, nelle difficoltà di intervenire prontamente, è una cosa che ci ha molto preoccupato e ci ha molto messo nello stato di allarme. Però mi perdoni, non si può mettere a repentaglio la vita umana, cioè quel tipo di elicottero non è in grado di far fronte a quelle condizioni meteo avverse, si poteva fare intervenire un elicottero adeguato come altre volte è arrivato. Perché non è stato fatto? Il problema di fondo è proprio questo. Anche su questo tema, come dice lei, proprio perché altre volte è stato fatto, in questa volta abbiamo chiesto le motivazioni per cui non è intervenuto un altro mezzo aereo se era possibile che intervenisse un altro mezzo aereo. Quindi questo stavo intendendo dire che non abbiamo nessuna intenzione, nessuna voglia di far passare inosservato questo. Poi, oggi il Consiglio Comunale ha anticipato una discussione sulla sanità in generale, chiaramente una discussione molto condizionata dall'evento, perché poi uno spesso si muove anche su fatti emotivi e noi come amministratori non ci dobbiamo muovere su fatti emotivi. Noi come amministrazione ma neanche il Consiglio. Devo sottolineare che c'è stato un bellissimo dibattito in Consiglio Comunale, vanno elogiati veramente tutti coloro che sono intervenuti perché hanno messo il dito nella piaga. Perché c'è stato un dibattito? Perché a differenza di quello che si dice, noi spesso siamo abituati a usare il termine emergenza, a differenza di quello che si dice noi l'argomento, tutti, ognuno per la propria parte, lo stiamo affrontando come va affrontato. Noi già c'eravamo visti tempo prima in Consiglio Comunale, avevamo stabilito una linea comune essendo tutti d'accordo sul quale è il problema sostanziale. Poi c'è il particolare rispetto a una cosa o a un'altra, ma la linea sostanziale, il problema è di un ospedale che seppur, secondo il piano aziendale, ha delle potenzialità e avrebbe, certamente c'è una riflessione da fare in più sul ragionamento del primo soccorso, nel senso di rianimazione e tutto il resto, ma anche altri servizi che sono previsti dal piano aziendale di fatto sono inesistenti perché le figure professionali non sono adeguatamente ricoperte. Quindi la battaglia che dobbiamo condurre, perché di battaglia si tratta, è quella di far sì che nonostante alcuni limiti che sono nella legge, nel modo in cui si fanno le assunzioni, nel modo in cui vengono fatti concorsi, nella capacità effettiva poi della pubblica amministrazione di intervenire, perché non è un problema di libero, è un problema di sistema, è un problema di difficoltà complessivo. Dobbiamo trovare in questa difficoltà di sistema una eccezione per delle isole minori che non hanno la continuità territoriale e che quindi devono essere garantite in modo diverso. Su questo eravamo rimasti con il Consiglio Comunale, che avremmo fatto una relazione e l'amministrazione si sarebbe portata dall'assessore, aspettavo questo per chiedere l'appuntamento, o meglio per fissare l'appuntamento, e chiedendo un'audizione alla Commissione Sanità una volta che c'era il Consiglio Comunale che si fosse espresso su questo argomento. Nel frattempo avevano lavorato, avete potuto sentire voi oggi che la Commissione aveva lavorato, io spero che questo avvenga immediatamente in modo che l'amministrazione possa fare la sua parte, facendo la battaglia per quello che è necessario, cioè che l'ospedale, ricoprendo tutte le figure professionali necessarie, sia nelle condizioni, seppur limitatamente alcuni tipi di interventi, di dare i servizi che noi ci aspettiamo, ricordando a tutti però che il problema della sanità nelle olie non è soltanto l'ospedale di Lipari, perché la maggior parte, se non la maggior parte, molti dei nostri concittadini accedono ai servizi sanitari non attraverso l'ospedale, perché questo è un arcipelago, per cui molti conoscono cittadini, se non si può raggiungerlo non si può andare via dall'ospedale, ci vuole l'elicottero, è pure vero che quelli filigudi, di alicudi, di panarea, di stromboli, di vulcano, comunque, i nostri stromboli chiaramente come isola, comunque per accedere alla sanità, comunque hanno un impedimento in più, per cui noi troviamo ancora più insoddisfacente la capacità di intervento sanitario nelle isole minori. Mi ha fatto molto piacere che il Consiglio di oggi comunque abbia riconosciuto che questa amministrazione nei limiti di quello che può fare rispetto alla sanità, parliamo del centro di riabilitazione che sta riaprendo, parliamo dell'investimento fatto per l'emoteca, parliamo dell'investimento fatto per assistere i malati oncologici, tenta con proprie finanze, al di là delle loro, delle proprie responsabilità, di dare delle risposte e di allevare questo stato di mancanza, soprattutto nella percezione che le persone hanno, rispetto ai servizi sanitari che vengono previsti. Sindaco, in questi anni indubbiamente la sua amministrazione ha fatto le richieste alla Regione, al Ministero, la stessa cosa il Consiglio Comunale, più volte ha trattato l'emergenza sanità, documenti inviati, venne anche la Commissione regionale della sanità, però i risultati fino ad oggi sono quelli che sono. Ora a livello regionale è cambiato il colore politico della Giunta, si può fare affidamento, è un fatto di peso politico, ecco perché le istanze che partono anche dalla comunità, perché ricorderà ci sono state più volte anche delle manifestazioni di protesta, poi non arrivano i risultati, ecco qual è? Proprio per quello che diceva poco fa, intanto io non credo che il colore politico abbia questa rilevanza, soprattutto su questi temi, anche perché non è che vengono chieste cortesie o vengono chieste attenzioni particolari, vengono chieste i diritti e devo dire onestamente, lo sanno tutti, il Governo in questo momento regionale non è certamente della mia stessa parte politica, nonostante questo io devo dare atto, l'unico intervento che in questi pochi mesi l'amministrazione ha richiesto, oltre in termini di urgenza, quando è stato dei lavoratori della PUMEX, io ho trovato l'assessore molto attente, indipendentemente da quale fosse il mio colore politico, come giusto che sia, ma io gliene devo dare atto, penso che a maggior ragione sul discorso della sanità non abbia importanza, ma proprio perché invece i risultati su questo tema è più difficile raggiungerli, proprio perché non è un problema né di impegno né di distanza, è un problema, ma questo lo si vede in leggende giornali ogni giorno, è un problema di sistema e di capacità di dare risposte da parte della sanità a livello regionale come sistema, per cui noi magari lo soffriamo di più, perché siamo un territorio marginale da un punto di vista logistico, ma vi devo dire che anche le ultime elezioni che mi hanno permesso di parlare con tante persone, anche tanti amministratori, anche di altri territori, se non proprio centralissimi, vi posso assicurare che la percezione di abbandono non è soltanto nostra, non è soltanto di queste isole, ma è di tutto il territorio, più periferico lo è, e più periferico intendo in senso logistico, in senso territoriale, più questa sensazione viene esasperata, proprio perché è un problema di sistema e di capacità di presenza dell'intervento sanitario immediato. Noi dobbiamo trovare il modo, facendo meno parole, meno dibattiti, meno ordini del giorno, e con più concretezza, che è quello che credo stiamo facendo in questo momento, trovare la sintesi per verificare una volta per tutte se riusciamo a trovare in questo sistema difficile delle risposte adeguate. Bene, abbiamo completato, ringraziamo il sindaco Marco Giorgianni, grazie anche al nostro assistente Federico, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro, e grazie anche a voi, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.